Una buona serata e un'altra sorpresa in arrivo. Allora intanto stasera sono in live con Pucci Viola sul mio profilo Instagram quindi vi invito a vedere la diretta perché sarà simpatica, parleremo un po' di Fiorentina, farò il quiz, il famoso quiz a Pucci Viola, insomma faremo due risate, insomma penso sarà una bella diretta. Poi domani uscirà il video in cui vi racconterò quello che mi ha risposto Alex Vinazze sulla chat di Instagram visto che non mi ha mandato un video ma mi ha risposto sulla chat mentre penso ci manderà il video Maurberger, ci manderà invece sicuramente il video Roland Ficinale, l'ho contattato. Mi ha risposto e mi ha detto mi manderà un video per rispondere alle nostre domande e io vi invito chiaramente a mandare insomma Roland Ficinale, snowboarder, vincitore quest'anno a quasi 40 anni nella Coppa del Mondo di Slalom Gigante Parallelo, poi vincitore della Coppa di Slalom Parallelo 2013, 2016, 2018, Coppa del Mondo Generale del 2012, Coppa del Mondo Generale di Parallelo quest'anno, insomma sto vivendo una seconda giovinizia, uno dei candidati anche magari al ruolo da portabandiera per le Olimpiadi Vernani di Pechino 2022, insomma un grandissimo atleta, 18 vittorie in Coppa del Mondo, non ha bisogno di presentazioni direi Roland Ficinale, dalla grande professionalità, dalla grandissima attitudine ma anche longevità, insomma una carriera ventennale che sta continuando a regalargli meravigliose soddisfazioni, una seconda giovinizia, dimostrazione proprio che nello sport se non si molla, se si continua a crederci si può arrivare a tantissimi risultati anche in tarda età. Quindi vi invito a mandare le vostre domande qui nei commenti a Roland Ficinale e quindi realizzeremo un'intervista al buon alto assesino. Comunque fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma volete anche se mi piace al video appunto domande per Roland Ficinale e stasera seguite la live tra me e Pucce Viola, ore 22 sul mio profilo Instagram Vitalis Sport Official. E a questo punto arrivi e ci vediamo al prossimo video.